Le malattie si sa purtroppo possono colpire tante parti del nostro corpo, ad esempio possono colpire anche le mani oppure i piedi, ma il povero Diodoro evidentemente fa confusione fra queste due parti del corpo e oggi Marziale ci spiega come mai. Osservate innanzitutto la contrapposizione fra la terza parola del primo verso e la penultima parola del secondo che si assomigliano podagra e cheragra, sono le due malattie in questione. Traduciamo l'epigramma. Flacce, dice Marziale, o flacco. Diodorus litigat. Diodoro ha dei processi in corso, è coinvolto in cause, in tribunale. et laborat podagra, ed è affetto da podagra, cioè da gotta, da male ai piedi. sed nil patrono porrigit, ma letteralmente non porge nulla al suo avvocato difensore, cioè non lo paga per niente, neanche un centesimo. Ec cheragra est. Questa è cheragra. Per capire il senso di questo epigramma bisogna capire il gioco di parole che coinvolge le parole podagra e cheragra. Sono i nomi di due diverse malattie ed entrambi hanno un'etimologia greca. osservate la prima parte di queste due parole che indicano le malattie, sono diverse. In un caso è un male che colpisce i piedi, nell'altro invece uno che colpisce le mani, perché in greco care significa mano. Letteralmente l'espressione nil porrigit significa non allunga per niente le mani verso il suo avvocato, non allunga le mani perché non ha soldi da porgergli, perché evidentemente o è povero o è molto avaro. Dunque, dice scherzosamente marziale, la malattia non l'ha colpito ai piedi, come dice sempre la podagra, l'ha colpito evidentemente alle mani, quelle che servono per pagare i debiti. Grazie a tutti per l'attenzione, se volete lasciate un like e iscrivetevi al mio canale YouTube. Alla prossima!